Siamo con Vito Magnante, Ecco Ricerche, Vito Chairman del meeting numero 2 sulla normativa dei rifiuti. Ci introduci questa giornata, quali sono gli interventi, le tematiche che verranno affrontate nel corso della giornata? Sì, nella giornata abbiamo organizzato un incontro con finalità tecnico-giuridiche, nel senso che normativa dei rifiuti, quindi una norma che si sposa molto correttamente, perfettamente con quelle che sono le problematiche tecniche, però proprio perché è una norma a volte stride terribilmente con la realtà operativa. Quindi in questa giornata abbiamo voluto un po' focalizzare con dei colleghi avvocati quelle che sono le norme applicate alla pratica e quelle che sono le criticità ed eventualmente dare gli spunti ai partecipanti per risolvere queste criticità e quindi affrontare al meglio la loro realtà operativa di tutti i giorni. Ecco, è un percorso questo di fare i conti con l'ambiente che appunto tocca tematiche legislative, tematiche di scenario. Nell'ambito della normativa dei rifiuti, lo scenario verso cui andiamo, possiamo sbilanciarci, possiamo dire qualche cosa in merito? Sbilanciarsi su normative nel nostro Paese facciamo veramente fatica, è una provocazione e si comprende bene, devo dare una risposta istituzionale, quindi non mi sbilancio se mi consenti la battuta, nel senso che purtroppo a volte, ripeto, da tecnico, da consulente riscontro veramente uno stacco, uno scollamento tra chi fa le norme e chi è tenuto ad osservarle e questo è un grosso problema che abbiamo nel nostro Paese secondo me. Grazie Vito Magnante anche per la risposta politica ad hoc. Grazie e buon lavoro, buona giornata. Grazie a voi, buon giorno. Grazie.